Grazie a tutti. Sì, oppure si possono usare anche le sedie. Se volete passare anche di qua adesso non è un problema. Sì, sì. Non è finito. Prego, prego. Con la possibilità naturalmente di interloquire con le persone che sono presenti il suo ultimo saggio, sinistra-destra, identità smarrita, edito dalla terza. Ricordo che per chi fosse interessato, InfoShop Maxei mette a disposizione alcuni volumi del professor Revelli. Io darei subito la parola al professore anche perché immeritatamente io questa sera devo presentarlo. Dico immeritatamente perché nel libro che è molto interessante e fa un'analisi approfondita dei concetti di sinistra e destra, così come storicamente si sono affermati e così come attualmente vengono fotografati nella dinamica politica attuale, non solo del nostro paese ma più in generale del mondo occidentale. Dico per l'appunto immeritatamente perché tra virgolette per chi mi conosce anch'io sono un operatore della politica e come voi proprio nell'ottica di questa scuola di etica e politica vorrei essere uno studente di questa scuola. Per cui lascio la parola al professor Revelli che introduce, brevemente, introduce per l'appunto i suoi studi e su questi poi avremo la possibilità di confrontarci. Grazie, grazie dell'occasione che mi avete offerto di essere qua, di essere qui in una scuola di etica e politica. La cosa mi fa particolarmente piacere perché di scuola ce n'è bisogno, in particolare di politica ce n'è bisogno in un momento di spaventosa confusione e in cui la politica, la politica politicienne, la politica politicante, nel senso della politica quale la vediamo e la leggiamo sui giornali, un ruolo pedagogico non lo svolge più, quel ruolo di acculturazione forte che la politica ha svolto in Italia. Oggi non voglio fare quella che si chiama in genere antipolitica, ma oggi l'impressione è che funziona al contrario, che ci sia una deculturazione che viene dall'alto, quindi che si moltiplichino scuole di politica è davvero un contributo importante alla resistenza di un senso civico e civile. Destra e sinistra, il libro che ho scritto è un libro, ve lo dico subito, è un libro noioso, noiosissimo, contorto, complicato, è un libro un po' pensato per le scuole, per le scuole di politica, non per le scuole degli studenti e basta, è una specie di magazzino nel quale ho cercato di mettere molto, moltissimo materiale del tipo più diverso, materiale storico, materiale filosofico, materiale sociologico, materiale politico in senso stretto, ma comunque un magazzino nel quale servirsi per cercare di mettere un po' di, non dico di ordine, ma delle coordinate, delle vie di direzione in una situazione che si è fatta molto confusa. chi avesse la pazienza di attraversarlo tutto, questo libro si accorgerà che è un libro che si spezza a metà, è un libro nel quale il percorso non appare lineare, appare invece spezzato a un certo punto. e ve lo spiego subito perché, perché io ero partito in questa ricerca che è incominciata 25 anni fa, è iniziata all'inizio degli anni 80 e mi ha fatto piacere vedere scuola di etica e politica, perché è incominciata con i seminari che noi facemmo col professor Norberto Bobbio, al centro Piero Gobetti di Torino, seminari che avevano come titolo proprio etica e politica. Era un periodo, chi l'ha vissuto lo sa, spaventosamente convulso e confuso, confuso forse altrettanto di quello di oggi, più tragico per certi versi, erano gli anni in cui si stava spegnendo l'ondata delle grandi mobilitazioni di massa della fine degli anni 60 e degli anni 70, erano gli anni del terrorismo, erano gli anni della crisi delle grandi formazioni politiche, non ancora dichiarata, ma che era nell'aria, scegliamo allora di costruirci uno spazio come questo, di libera discussione su ciò che ci stava accadendo e le chiamiamo appunto etica e politica. Al centro, immediatamente, dal secondo anno in poi, potremmo dire, la questione dell'identità della sinistra apparve ovvia per certi versi, era un'identità allora ancora chiara, ma in fase di appannamento, erano gli anni nei quali incominciava il grande assedio, il grande assalto ai due pilastri, destra e sinistra, come categorie capaci di dare un ordine all'universo politico. Un assalto che partiva sia dal basso che dall'alto. Nell'introduzione del libro ne do in qualche modo conto, non occupandomi tanto dell'Italia, in cui le cose sono sempre un po' confuse, sono radicali ma confuse, occupandomi invece della Francia, della Francia che è per definizione il paese della cultura politica e se appunto la Germania è il paese della filosofia e l'Inghilterra è il paese dell'economia, la Francia, lo diceva Carlo Marx, è il paese della politica, del pensiero politico, della teoria politica ed è il paese in cui la distinzione destra e sinistra è nata, qui vale la pena, un piccolo escurso storico, la pratica poi diventata generale di dividere il campo politico in destra e sinistra nacque in Francia nel agosto del 1789, proprio all'inizio del processo rivoluzionario, subito dopo la presa della Bastiglia, nel corso delle sedute dell'Assemblea nazionale francese, e si affermò in occasione del voto, molto importante, del voto sulla questione del diritto di veto del re. I conservatori si battevano per mantenere nelle mani del re il diritto di veto che avrebbe permesso al potere tradizionale consolidato, al sovrano, di paralizzare qualsiasi decisione dell'Assemblea, semplicemente ponendo il veto. I progressisti, diciamo così, il movimento, quelli che spingevano la rivoluzione in avanti, si battevano per abolire il diritto di veto del re come residuo dell'ancien regime. Si votò e il sistema di voto fu che i favorevoli al mantenimento del diritto di veto per il re si recassero, allora si votava con i piedi, non si votava con le mani, cioè ci si spostava nella sala in una posizione o in un'altra, i favorevoli al mantenimento del diritto di veto del re si spostavano sulla destra del presidente dell'Assemblea, nello spazio a destra, i favorevoli alla abolizione del diritto di veto del re si andavano a collocare alla sinistra. nacque allora la distinzione tra destra e sinistra ed era, badate, una rivoluzione copernicana perché si cominciò a distinguere lo spazio pubblico in modo orizzontale, ciò che sta a destra e ciò che sta a sinistra si pone su un piano orizzontale. Fino ad allora tutte le categorie politiche ruotavano intorno a una dimensione verticale, chi sta in alto, chi sta in mezzo, chi sta in basso. Persino la disposizione fisica di quell'Assemblea all'inizio era verticale, c'era il re appollaiato in alto su un podio molto alto, poi su un piano un po' più basso l'aristocrazia, quindi il clero e al pian di Babi si dice in Piemonte al livello del terreno il quarto stato, il terzo stato scusate la borghesia, quindi era una struttura verticale. La rivoluzione nel suo procedere scardinò questa dimensione verticale, impose una dimensione orizzontale e si affermò come criterio di orientamento la distinzione tra destra e sinistra. Bene, io ho voluto andare a vedere in Francia, non tanto in Italia, quanto questa coppia destra e sinistra continuasse a funzionare. E beh, proprio in Francia, noi vediamo sulla base dei sondaggi elettorali, in Francia è stato fatto un monitoraggio quasi anno per anno dagli anni 70 in poi su come si collocasse l'elettorato sull'asse destra e sinistra, beh, ancora alla fine degli anni 70 quasi il 70% dell'elettorato si collocava o a destra o a sinistra, solo un 30% sfuggiva a questa polarizzazione. Alla fine degli anni 80, lo stesso metodo di sondaggio e di valutazione rivelava che solo più un 30% veniva catturato da questa distinzione. Circa il 70%, quindi il rovesciamento completo dei rapporti, sfuggiva, si collocava all'esterno, diceva di non riconoscersi o si collocava al centro. Quindi, come dire, uno smottamento, un processo di crisi dal basso della coppia destra-sinistra e un attacco dall'alto. Erano gli anni in cui nasceva la nuova destra, la nouvelle droite, con un'aggressività e anche con un patrimonio culturale inedito per la destra. Eravamo abituati a pensare alla destra come l'affermazione nuda di interessi ma senza una capacità culturale e teorica. Assistiamo in Francia all'emergenza di una destra molto attrezzata culturalmente che appunto mette in discussione destesista proprio come categorie della modernità e sostiene che non funzionano, che bisogna ragionare in termini di ni droite ni gauche, né destra né sinistra. Oggi mica solo la destra lo dice o oltre la destra e la sinistra categorie obsolete, superate, vecchie e così via. Ora noi quel seminario all'inizio degli anni Ottanta l'avevamo messo in piedi e la scelta di ragionare sull'identità della sinistra e della destra era determinata dal fatto che ci proponevamo invece di confermare la validità di quella coppia, di confermarla, di combattere contro le posizioni che la mettevano in discussione. Buona parte dell'armamentario teorico che trovate nella prima metà di questo libro è nato ed è stato messo a punto dentro quel processo di difesa della validità della coppia destra-sinistra come principio di organizzazione dello spazio. Lo facevamo Bobbio era in qualche modo il più determinato a farlo lo facevamo perché eravamo convinti e ne sono ancora di questo convinto che quello di destra e sinistra fosse un forte principio di razionalità per ragionare sulla politica che il discorso politico senza delle coordinate che definiscano un ordine interno una struttura una capacità di distinzione rischia di precipitare nel caos nella confusione nell'occasionalismo nell'opportunismo senza un principio d'ordine al proprio interno è quello che l'affermazione che cito proprio all'inizio delle introduzioni di due politologi dicono la coppia destra-sinistra ha nel campo della politica la stessa funzione che il denaro ha nel campo dell'economia senza il denaro senza un principio che permetta di calcolare di contare di misurare e così via l'economia cade nel caos allo stesso modo la politica senza dei principi di collocazione di ordine appunto di definizione delle rispettive posizioni rischia di cadere nel caos nell'occasionalità eccetera quindi difendere la coppia destra-sinistra significava difendere un principio di ordine del discorso politico di rigore di serietà del discorso politico e impedire che la politica diventasse l'arte di farsi strada individualmente l'arte di approfittare dell'occasione l'arte di massimizzare momento per momento le proprie posizioni senza un progetto senza una linea e così via significava anche difendere quell'idea di politica che era nata dall'illuminismo alla rivoluzione francese idea moderna della politica come un'attività che si svolge in uno spazio egualitario appunto quello spazio piano quella superficie piana nella quale tutti contano per uno in qualche modo non ci sono differenze di rango di prestigio di valore ogni cittadino è appunto uguale a un altro lì nacquero alcune idee centrali che sono in questo libro intanto la definizione di destra e sinistra come criteri adesso uso delle parole astruse ma poi siamo alla scuola poi cerco di scioglierle destra e sinistra come entità non sostantive o sostanziali ma relative e relazionali cosa vuol dire questo vuol dire che quando si dice che uno è di destra o che uno è di sinistra non si dice una cosa simile a quando si dice che uno è liberale o socialista o o o cattolico o fascista cioè destra e sinistra non sono delle identità sostanziali eh io 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 credo nella libertà degli individui del mercato dell'individuo eccetera e quindi sono liberale io credo nel nella superiorità di una razza e nella forza e nell'uso della forza quindi sono fascista io credo nell'eguaglianza delle persone anche la più radicale quindi sono comunista e queste sono identità sostantive si può cambiare identità ma dichiarando esplicitamente che ci si sposta da una all'altra è un è davvero un uscire da un'identità per entrare in un'altra l'abbandono di queste posizioni destra e sinistra non sono questa roba qua destra e sinistra sono come dice la parola stessa luoghi di uno spazio ci si colloca a destra o ci si colloca a sinistra eh in uno spazio nel quale tuttavia se io sono a sinistra ed emerge qualcun altro alla mia destra che occupa uno spazio alla mia eh se io sono a sinistra e emerge qualcuno alla mia sinistra che occupa uno spazio io divento di centro se emerge poi ancora qualcun altro alla sinistra di questo che ha preso il posto eh alla mia sinistra io divento di destra eh sono eh posizioni relative io sono di sinistra relativamente a uno che sta alla mia destra io sono a destra relativamente a qualcuno che sta alla mia sinistra relativamente a un centro rispetto a cui qualcun altro si pone a sinistra eh questo significa che si può cambiare eh cambiare di connotazione sull'asse destra e sinistra anche rimanendo fermi proprio perché se entra qualcuno nello spazio che occupa una posizione alla mia sinistra eh o se entra qualcuno che occupa una posizione alla mia destra la mia posizione relativa cambia è quello che è successo eh nei tre secoli che ci precedono eh se noi guardiamo nel settecento l'estrema sinistra era costituita dai liberali eh i liberali erano l'estrema sinistra perché perché predicavano l'eguaglianza l'eguaglianza giuridica l'eguaglianza degli individui rispetto alla legge eh questo era il massimo di eguaglianza che veniva eh proposto in contrapposizione ai teorici dell'antico regime che invece ritenevano che un aristocratico dovesse essere sottoposto alle leggi per gli aristocratici e giudicato da aristocratici che eh un borghese dovesse essere giudicato da altri tribunali che un poveraccio potesse essere impiccato senza processo e così via perché non era considerato una persona liberali erano quelli che si battevano per l'eguaglianza giuridica e per i diritti civili erano l'estrema sinistra poi è emerso un movimento democratico che oltre all'eguaglianza giuridica ha anche teorizzato l'eguaglianza politica che ha sostenuto se gli uomini sono uguali davanti alla legge devono anche in parti uguali come singoli tutti insieme partecipare all'elaborazione delle leggi quindi diritto di voto per tutti l'eguaglianza politica non solo giuridica e i liberali che erano l'estrema sinistra sono diventati il centro e i democratici sono diventati la sinistra poi è emerso nel corso dell'ottocento un movimento socialista il quale diceva non ci basta l'eguaglianza politica e votare tutti quanti vogliamo anche i diritti sociali uguali per tutti accedere tutti a un diritto al lavoro al diritto alla casa al diritto alla pensione e così via e i democratici che erano l'estrema sinistra sono diventati il centro il centro sinistra i liberali sono diventati il centro destra per lasciare ai fascisti o ai tradizionalisti l'estrema l'estrema destra capite che pur rimanendo ideologicamente uguali a se stessi le posizioni sull'asse destra e sinistra cambiano quindi destra e sinistra sono identità relative relazionali e non sostantive questo ci serviva per contrastare l'argomento che veniva portato dai critici della coppia destra e sinistra i quali dicevano ma questa coppia è idealistica è astratta è un classico esempio di illuminismo astratto perché nella storia abbiamo visto che le forze politiche cambiano continuamente di posto le forze gli uomini e gli uomini politici si spostano da destra a sinistra o da sinistra a destra questi confini vengono continuamente trasgrediti e si portavano esempi storici significativi il periodo immediatamente a ridosso e dopo la prima guerra mondiale in Italia per esempio dove ci fu un grande rimescolamento delle carte gli anni 30 in Francia in cui ci furono grandi passaggi da destra a sinistra a sinistra a destra e il periodo più recente noi contrapponevamo a questi critici in nome degli eventi storici la validità invece categoriale Weber direbbe idealtipica tipi ideali di destra e sinistra come caselle dello spazio in cui di sinistra chi ricopre il luogo che lo qualifica come di sinistra se ne esce non entra in crisi la categoria semplicemente si sposta in un'altra parte dello spazio politico e poi e poi facciamo una approfondita ricerca dei valori identificanti dell'una e dell'altra identità della destra e della sinistra Bobbio ha dedicato a questo quel laureo libro che è appunto destra e sinistra dove indicava come valore discriminante forte il valore dell'eguaglianza ci sono delle pagine di Bobbio straordinarie pagine che ci fanno anche capire come la collocazione a destra a sinistra sia un fatto che che ci impegna totalmente anche come persone che ha a che fare con il nostro carattere con i nostri istinti con le nostre passioni con i nostri sentimenti chi l'ha letto ricorderà la pagina in cui lui racconta da piccolo quando aveva 6-7 anni e figlio di una famiglia benestante il padre era un primario medico e quando dalla città andava in campagna arriva a Altabormida per passare le vacanze e incontrava gli altri incontrava i contadini i figli dei contadini i suoi coetanei poveri e scopriva la diseguaglianza scopriva le profonde ingiuste differenze eh eh all'inizio Bobbio del 1909 parla del periodo tra il 1915 e il 1920 25 c'era una mortalità infantile spaventosa c'era la tubercolosi che imperversava e lì capì che eh a seconda che uno fosse nato da una famiglia o da un'altra poteva poteva vivere o morire e racconta il senso di eh repulsione che questo fatto gli gli produsse la il senso di rivolta morale questo questo fatto inaccettabile questa ingiustizia inaccettabile che determinò il fatto che lui si considerò poi da sempre di sinistra perché perché appunto eh scandalizzato da quella eh diseguaglianza Bobbio dice appunto eh il valore identificante della sinistra è l'eguaglianza non perché eh gli uomini debbano essere considerati identici lo sappiamo perfettamente tutti che eh gli uomini sono tutti diversi uno dall'altro ci sono quelli più alti più bassi biondi bruni rossi eh persino alcuni più si può dire alcuni eh più intelligenti e altri meno eh alcuni ingenui e altri furbi eh alcuni con gli occhi azzurri e altri con gli occhi scuri eccetera gli uomini sono diversi tra di loro ma da questa da queste differenze tra gli uomini chi è di sinistra si sforza di identificare e di individuare il comun denominatore cioè ciò che è comune a tutti ciò che li rende tra loro simili l'essere tutti dotati di ragione l'essere tutti dotati di bisogni di sopravvivenza e vitali l'avere tutti i loro sentimenti eccetera e da queste caratteristiche genericamente umane condivise da tutti trarre come conseguenza un uguale diritto di accesso a diritti e a risorse diritto di voto per esempio che deve essere concesso a tutti e di sinistra chi pur nelle differenze tra gli uomini valorizza ciò che li rende simili e soprattutto che giustifica l'accesso a uguali diritti e di destra chi invece valorizza ed enfatizza le differenze per giustificare delle diseguaglianze e quindi una gerarchia egualitarismo contro gerarchia era la distinzione che faceva Bobbio io poi qui amplio quel criterio ne aggiungo altri quattro di criteri di distinzione che ritroviamo storicamente nelle diverse sinistre e nelle diverse destre il rapporto al tempo per esempio che segna la differenza alle origini tra destra e sinistra quel voto sul diritto di veto del re e di sinistra chi ritiene che il tempo abbia dentro di sé il movimento del tempo il procedere del tempo abbia dentro di sé una promessa di liberazione e quindi si batte per aprire il tempo per farlo avanzare il partito del movimento che ha nella rivoluzione il suo punto più alto perché la rivoluzione è la massima accelerazione del tempo il tempo che in pochi giorni colma il vuoto di secoli di anni di decenni quindi la sinistra si batte per quello che si chiama si batteva per il progresso per l'avanzamento del tempo la destra è nemica del tempo e nasce come nemica del tempo vede nel tempo una minaccia in qualche modo all'ordine tradizionale e quindi si batte per fermare il tempo o per rallentarlo o per farlo tornare indietro addirittura gli anni immediatamente a ridosso della rivoluzione francese ci restituiscono l'immagine di una serie di destre dagli ultra ai contro rivoluzionari che vogliono farlo tornare indietro agli orleanisti che cercano di rallentare invece di attenuare le innovazioni le modificazioni comunque il tempo il secondo è lo spazio e qui ci sta la differenza tra eguaglianza e diseguaglianza tra egualitari e disegualitari il terzo criterio di distinzione è il principio di decisione se volete se a decidere debbano essere delle piccole elite o il grande numero oligarchia contro democrazia se vogliamo il potere in mano a pochi o il potere distribuito tra i tanti la destra elitaria elitista oligarchica la sinistra invece democratica il quarto è di tipo sociale classi alte contro classi basse è un po' un ritorno al criterio alto-basso insomma alto la destra basso la sinistra l'aristocrazia la borghesia finanziaria la grande borghesia a destra i ceti medi e soprattutto il proletariato la classe operai i lavoratori a sinistra e l'ultimo criterio che indico lo accenno solo poi se volete ci ritorniamo invece riguarda i fondamenti culturali insomma la teoria della conoscenza io dico mito contro ragione un approccio mitico sacrale se volete non razionale da parte della destra tradizionalmente un approccio razionale razionalistico discorsivo dimostrativo il potere dell'immagine a destra il potere della parola a sinistra se volete che distingue è un altro criterio per distinguere destra e sinistra ma sostanzialmente fermiamoci a Bobbio eguaglianza gerarchia bene quel percorso appunto per più di dieci anni ci vide appaiati e io condividevo totalmente il contenuto del libro di Bobbio che è uscito nel 1994 alla metà degli anni 90 poi ha avuto una serie di ristampe molto felice è stato quel libro ha venduto 300.000 copie in Italia è stato tradotto in 19 lingue ha fatto scuola ha se volete messo una parola fine a quel dibattito sulla crisi della destra e della sinistra mettendo un po' a tacere tutti i critici e io lo segui fino allora ed è diciamo il percorso della prima metà del libro devo dire che quello che è successo nel decennio successivo dalla metà degli anni 70 90 a oggi a ieri quando ho finito questo libro è stata una sconfitta invece come dire quell'intento originario di difendere a oltranza il valore della differenza destra e sinistra è venuto meno negli anni successivi fino non dico a accettare ma fino a prendere molto sul serio le ragioni di coloro che dicono che destra e sinistra sono in crisi è un fallimento se volete fallimento del progetto iniziale fallimento determinato da cosa determinato in parte dai termini del dibattito che si è sviluppato tra la metà degli anni 90 e i primi anni di questo secolo dibattito che ha visto cambiare molto le posizioni fino agli anni alla fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 valeva tutto sommato il motto di un filosofo francese bravissimo brillantissimo che si chiama Alain autore di scritti polemici brevi e taglienti il quale nella prima metà degli anni 30 aveva scritto fra l'altro questa frase ogni volta che sento qualcuno che mette in discussione il valore della distinzione della differenza destra e sinistra so con quasi certezza che non è uno di sinistra cioè che è uno di destra era un argomento appunto prevalentemente o quasi esclusivamente della destra beh dagli anni 90 in poi invece si moltiplicano le voci di autori pensatori intellettuali di sinistra che mettono in discussione il valore di questa categoria un po' un po' in tutte le aree culturali penso ad autori come Christopher Lash è un un uomo di sinistra della sinistra americana indiscutibile la famiglia era stata perseguitata nel periodo del maccartismo Lash aveva partecipato alla rivolta studentesca Berkeley negli anni 60 aveva partecipato attivamente alla lotta contro la guerra del Vietnam negli Stati Uniti era un pezzo della sinistra americana e negli anni 90 scrive un libro il paradiso sul paradiso perduto la perdita del paradiso terribile in cui dichiara la fine il fallimento della sinistra prendendo in considerazione soprattutto la crisi dell'idea di progresso dice uno dei temi forti fondanti della sinistra e l'idea di progresso noi stiamo assistendo al fallimento dell'idea di progresso il progresso l'avanzamento del tempo la sua accelerazione non liberano gli uomini ma anzi sanzionano nuove diseguaglianze nuove schiavitù non è vero che il progresso porta con sé eguaglianza libertà liberazione emancipazione e così via uno dei pilastri della sinistra crolla non solo lui dice noi assistiamo a molti governi di sinistra o meglio che hanno etichette di sinistra che praticano politica esplicitamente di destra la situazione inglese le trasformazioni del partito laborista il blerismo che stava proseguendo la logica del taccerismo questo processo lui dice non non tiene più la coppia destra sinistra poi altri autori Anthony Giddens può non essere molto simpatico è stato uno dei consiglieri di Tony Blair ha scritto un libro Beyond Left and Right oltre la destra e la sinistra lo stesso titolo che negli anni 80 Alain de Benoit aveva dato a un suo libro e sostiene che di fronte alle nuove caratteristiche della modernità o della tarda modernità o della modernità radicale degli anni 80 e 90 la coppia destra e sinistra non tiene più un altro Ulrich Beck Ulrich Beck di area tedesca invece insegnato a lungo e a diretto la London School of Economics un sociologo ha scritto un libro straordinario intitolato Risiko Gesellschaft la società del rischio un libro terribile che è una pugnalata davvero all'identità della sinistra che pensava che lo sviluppo delle forze produttive lo sviluppo della tecnica e della scienza lo sviluppo delle capacità degli uomini di dominare la natura avrebbero favorito l'emancipazione degli uomini e la loro sicurezza questa idea della sinistra Ulrich Beck gli dà una pugnalata micidiale dimostra che buona parte delle minacce alla sopravvivenza degli individui addirittura della specie nella seconda metà del novecento e soprattutto negli ultimi decenni del novecento non provengono più da una natura non abbastanza domata da una natura ancora troppo selvaggia non abbastanza controllata dagli uomini ma provengono da quelle stesse tecnologie da quegli stessi apparati che gli uomini nella precedente fase avevano prodotto per garantirsi sicurezza e dominio della natura dalla mucca pazza al buco dell'ozono al cambiamento del clima al rischio dell'estinguersi delle risorse energetiche e così via buona parte delle minacce all'umanità quelle che ci impediscono di guardare oltre i prossimi decenni perché non sappiamo quale sarà lo stato del pianeta e se sarà ancora vivibile questo pianeta e provengono proprio da quegli strumenti che si era pensato di utilizzare invece per garantirsi sicurezza ed emancipazione è un rovesciamento che fa dire a questi autori che noi ci troviamo in una nuova fase della modernità dopo la lunga fase della prima modernità quella che ha fatto la rivoluzione francese quella che ha fatto l'industrializzazione quella che ha prodotto le rivoluzioni del novecento quella che ha prodotto il movimento operaio e che l'ha fatto rafforzare dopo questa prima fase della modernizzazione industriale noi ci stiamo a una seconda fase della modernizzazione che non cambia le caratteristiche del processo semplicemente accelera tutti gli elementi del processo la produttività la capacità di controllo della natura la potenza dei mezzi produttivi eccetera ma li rovescia tutti di significato di valore quello che prima era un bene diventa un male quello che prima era una promessa diventa una minaccia quello che prima era una risorsa diventa un pericolo e quindi dentro questo sta la crisi delle vecchie identità destra e sinistra un altro autore per continuare un autore molto noto Zingbun Bauman anche lui sostiene la difficoltà di mantenere in piedi la distinzione destra e sinistra di fronte alle grandi trasformazioni del nostro tempo sociali tecniche soprattutto di fronte al processo di globalizzazione questo direi che è diventato l'argomento principe quello che davvero mi ha convinto che qualcosa nel profondo si era spezzato che non era più possibile la difesa oltranza pure semplice delle vecchie identità la globalizzazione la globalizzazione ci è stata presentata come un fenomeno quasi esclusivamente economico addirittura finanziario ed è vero è un fenomeno economico e finanziario ma non è solo quello e forse non è in primo luogo quello la globalizzazione economica e finanziaria è in fondo una conseguenza di un altro processo più profondo che ha a che fare con le nuove tecnologie che ha a che fare soprattutto con le telecomunicazioni e i trasporti questa terza rivoluzione post-industriale potremmo dire che ha sconvolto il mondo e che ha cambiato nel profondo la nostra percezione dello spazio la globalizzazione affermo qui è in primo luogo prima ancora che una contro rivoluzione economica e sociale è una rivoluzione spaziale è uno sconvolgimento della percezione soggettiva e sociale dello spazio lo spazio fisico è rimasto più o meno quello che era la deriva dei continenti avvicinerà di qualche millimetro ma grosso modo i monti rimangono dove sono senza più i ghiacciai ma rimangono dove sono i fiumi si gonfiano per l'effetto serra ma continuano a essere quelli lo spazio fisico non è cambiato ma lo spazio sociale è cambiato enormemente lo spazio sociale è lo spazio nel quale noi avvertiamo che avvengono gli eventi in grado di influire direttamente in tempo reale sulla nostra vita questo spazio è esploso era rinchiuso ancora fino a 20-30 anni fa era in fondo rinchiuso nella sua grande dimensioni maggiori nei contenitori dei confini degli stati nazionali era lì dentro che avvenivano la quasi totalità degli eventi che ci cambiavano la vita poi c'erano le guerre mondiali c'erano le grandi catastrofi ma buona parte degli eventi si consumavano lì dentro negli ultimi 20 anni questo spazio si è dilatato enormemente e ha quasi arrivato è arrivato ad avvolgere l'intero pianeta oggi quello che avviene a Tokyo o a New York o in Sudafrica è in grado di avere delle conseguenze immediate dirette e significative sulla nostra vita quotidiana ci fanno essere rapidissimamente più ricchi o più poveri la crisi dei mutui americani è arrivata rapidissimamente da noi ci cambia il valore della casa il valore del conto in banca l'accesso alle risorse il tipo di paure o di sicurezze che noi possediamo e così via quindi è uno sconvolgimento radicale dello spazio non solo nella sua estensione ma anche come dire uno spazio che si è fatto di colpo liquido lo spazio nel quale si erano strutturate le nostre identità politiche e la nostra idea di politica era uno spazio tutto sommato solido gli esperti lo chiamano spazio euclideo era uno spazio costituito da un da un piano da una superficie piana in cui diversi punti erano tra loro contigui e in cui la distanza continuava ad avere un peso importante oggi la velocità della luce che hanno assunto le telecomunicazioni la possibilità di cooperare in processi di lavoro stando ognuno a casa propria ai diversi capi del mondo e simulando l'essere in una medesima stanza questo avviene nella coprogettazione a distanza in rete per esempio produce un effetto di simultaneità che simula la convivenza nello stesso punto di ciò che stava lontano e nello stesso tempo ciò che ci è molto vicino fisicamente può apparire lontanissimo ecco i flussi migratori col cambiamento delle nostre città è più facile spesso che qualcuno conosca perfettamente e stabilisca un rapporto di amicizia con persone che stanno 10.000 miglia a distanza e non conosca il proprio vicino o lo tema o immagini che sia qualitativamente diverso da lui è uno sconvolgimento totale che appunto inevitabilmente va a colpire questa coppia destra e sinistra che dentro lo spazio dello Stato nazionale si era strutturata noi oggi assistiamo alla crisi dello spazio moderno su questo vorrei concludere per poi discutere con voi perché la parte più importante di una scuola è l'interlocuzione e la discussione molte delle cose che noi vediamo oggi e che ci indignano ci sconvolgono hanno in qualche misura a che fare con questi processi che detti così sembrano molto astratti il primo dato che mi sembra da sottolineare è la crisi dello spazio pubblico noi oggi assistiamo a una crisi dello spazio pubblico lo guardiamo con paura e con disgusto per certi versi ma scoprire che nel nostro paese per una parte consistente degli anni più recenti il governo è stato gestito da un magnate con interessi enormi nel campo delle telecomunicazioni con un conflitto di interesse grande come una casa che non è stato mai né affrontato né superato quindi questa privatizzazione del governo questa privatizzazione del governo che ha fatto sì addirittura che attraverso le leve del governo fosse in grado addirittura di depenalizzare situazioni per le quali avrebbe rischiato la galera che è un ritorno al sovrano legibus solutus premoderno al modello dell'anzien regime ma anche scoprire con con imbarazzo e con preoccupazione le operazioni sul abbiamo una banca tanto per intenderci le operazioni a cavallo tra finanza di sinistra ceto politico di sinistra eccetera per controllare un pezzo di economia italiana perché questo significa governare non attraverso le istituzioni ma attraverso il controllo di pezzi o di snodi di capitale finanziario questa privatizzazione dello spazio ha a che fare con un processo di struttura non con semplici deviazioni col fatto che lo spazio nel quale si era strutturata la destra e la sinistra era uno spazio pubblico era uno spazio che era stato costruito era lo spazio dello Stato nazionale che era molto diverso dallo spazio del feudalesimo del modello feudale era uno spazio uniforme nel quale la legge valeva la legge che veniva deliberata e decisa nella capitale valeva in ogni punto del territorio in modo uguale era uno spazio appunto euclideo geometrico cartesiano in cui ogni punto aveva le sue coordinate ed era ben riconoscibile fisso e sottoposto alla medesima sovranità quello spazio lì era stato prodotto con mezzi di produzione pubblici cioè appartenenti allo Stato stesso erano i cartografi di Stato che avevano disegnato i confini tra il 5 e il 600 e poi in modo sempre più perfezionato tra 6 e 700 dando certezza ai confini fino ad allora i confini erano delle ipotesi generiche infatti c'era una logica imperiale non c'era una logica da stati nazione grazie alla cartografia pubblica si è arrivati a una definizione certa dei confini grazie agli ai tecnici e ai maestri d'opera e agli ingegneri degli arsenali militari sono state costruite le armi del principe che erano quelle che garantivano al sovrano il monopolio della forza e che lo rendevano infinitamente più forte di qualsiasi altro privato e quindi capace di affermare la sovranità pubblica gli ingegneri che avevano costruito le infrastrutture le strade le ferrovie i ponti i canali navigabili cioè quello era la produzione dello spazio pubblico moderno dentro cui poi è nata il costituzionalismo quindi la pratica di controllare con la legge il potere è nata la democrazia è nato tutto quello di buono e di cattivo ma anche il molto di buono che abbiamo conosciuto in quel percorso il nuovo spazio di cui parlavo prima questo spazio globale questo spazio dalla velocità della luce lo spazio delle comunicazioni è prodotto con mezzi privati è prodotto dagli investimenti delle società di telecomunicazione da chi possiede i mezzi del trasporto e così via questo cambia completamente la politica nello spazio pubblico dello Stato-Nazione aveva un suo spazio e una sua dimensione precisa era lo spazio della logica parlamentare in cui valeva il meccanismo della rappresentanza politica lo spazio politico oggi è uno spazio mediatico lo spazio mediatico ha risucchiato dentro di sé lo spazio politico e ha sottoposto il discorso politico alle sue regole che sono regole private non sono regole pubbliche Bobbio in un noto articolo che sollevò molte polemiche disse che la televisione è naturaliter di destra è per sua natura di destra un altro politologo di grande prestigio che Giovanni Sartori sostenne che col passaggio dall'homo sapiens all'homo videns dall'uomo che ragionava perché leggeva all'uomo che guarda noi abbiamo assistito a una rivoluzione una contro rivoluzione antropologica e l'homo sapiens non vedeva ma ragionava l'homo videns vede ma non ragiona quindi come dire lo spazio mediatico è uno spazio che cancella la dimensione del ragionamento enfatizza il messaggio istantaneo immediato lo sfondo azzurro con le nuvolette di Forza Italia o anche Spello scelto dagli esperti in comunicazioni perché ha i toni giusti eccetera enfatizza questi elementi che sono gli elementi dell'emisfero destro del cervello di quello che ragiona per impressioni ed emozioni e non opera attraverso la logica e il ragionamento e quindi determina una logica del discorso politico completamente diversa nella quale contano i tempi dell'audience sono tempi della merce notizia non della comunicazione pubblica sul bene comune questi elementi che ci spaventano che ci personalmente mi indignano perché segnano un degrado della politica stanno dentro però la struttura del nuovo mondo che si è venuto costituendo di questo spazio che è lo spazio della globalizzazione e rispetto al quale noi ci dobbiamo misurare allora io non appartengo a tanto per dire in conclusione come la penso su questa questione io non appartengo alla categoria di coloro che si compiacciano della crisi della coppia a destra e a sinistra ci sono sono tanti sono sparsi sia a destra che a sinistra ormai parlano tutti i giorni soprattutto con gli articoli di fondo del Corriere della Sera ci spiegano che finalmente con la fine della contrapposizione ideologica a destra a sinistra la nostra politica esce dall'infanzia delle ideologie e entra nella maturità del pragmatismo che finalmente non ci si divide più in base alle ideologie ma in base alle soluzioni concrete che possono essere condivise da tutti non sono tra questi anzi io guardo con terrore alla crisi della coppia a destra a sinistra perché significa la crisi di un ordine razionale del discorso politico e l'ingresso in una dimensione nella quale appunto sulla base di ciò che avviene occasionalmente e casualmente dei notabili o dei singoli gruppi di interesse si scontrano ignorando il bene comune sono però tra coloro che appunto non si nascondono questa crisi e leggono la crisi della coppia a destra a sinistra non come un fatto contingente o transitorio ma come il segno di una crisi più profonda della politica in quanto tale della politica della modernità di quella politica che era nata tra il 5 e il 600 sull'asse che va dalla Firenze di Machiavelli alla Londra di Thomas Hobbes il paradigma della politica dei moderni che si strutturava intorno alla centralità dello Stato-Nazione di quello che Hobbes chiamava il leviatano di quella potenza che grazie al monopolio della decisione della forza era in grado di garantire la convivenza e la coesistenza dei cittadini la pace sociale all'interno e quell'idea di politica sta naufragando la crisi di destra e sinistra è il sintomo di una crisi più profonda della concezione moderna della politica che se non viene rapidamente sostituita da una nuova cultura da una nuova idea della politica non ci porta al pragmatismo ci porta alla distruzione dal caos ci porta a un mondo in cui ritorna la guerra di tutti contro tutti quella rispetto a cui la politica dei moderni faceva barriera è il bellum omnium contra omnes la guerra di tutti contro tutti su scala planetaria a cui la mia impressione è che ex destra ed ex sinistra stiano lavorando tutti quanti con un grado di inconsapevolezza molto alto questo significa che la partita si gioca ancora una volta sul piano delle idee sulla capacità di inventare una nuova idea una nuova concezione della politica sulla necessità di non arrendersi all'ordine naturale delle cose ma cercare di inventare un modo di cooperazione tra gli uomini all'altezza delle sfide che noi abbiamo e le sfide sono tremende perché le sfide sono la sfida del ventunesimo secolo è quella di arrivarci alla fine il rischio è che questa umanità non arrivi alla fine del secolo che ha inaugurato con marce trionfali e pensando di essere finalmente uscita dagli orrori del secolo precedente bene ringraziamo il professor Revelli per averci fatto un quadro abbastanza esaustivo delle sue riflessioni non rasserenante ma non diciamo che nell'invito che noi le abbiamo rivolto non era nostra intenzione rasserenare gli animi anzi semmai creare quel sussulto della necessità direi della necessità che la politica ritrovi un po' il filo conduttore del suo agire perché ce n'è estremamente bisogno tant'è che lei nel suo libro dice questo paradosso è un paradosso tra i paradossi cioè il fatto che in realtà come dire il venire a meno di queste categorie fondative dell'agire politico destra e sinistra avvengono in un momento in cui in realtà lei riprendeva l'idea di Bobbio del tema dell'uguaglianza in un momento in cui invece le differenze tra gli uomini si vanno sempre più ad ingrandire per cui il tema dell'uguaglianza è comunque uno dei temi su cui si gioca anche l'orizzonte politico come dire del futuro io lascerei la parola a voi per cui chi vuole intervenire vai Tonino non hai fatto solo un guaglio hai fatto una scultura e anche la musica hai fatto un bel guaglio di solito non faccio mai domande perché non è che un 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 che è una frase di ai di una buona gli faccio spaccare l'attimo con prejudic heart facciamo un altro che dice tu non hai capito hai capito poco o niente di qualcosa che non senti era ispirata a tua madre questo mi face molto perché è molto che esso un punto esserlente che ti fai la domanda secondo te tutti gli intellettuali più o meno organici di sentiero sono in grado di spiegare quello che dicono a mia nonna all'orizzonte o sono tutti se non hai capito niente se non sei in grado di spiegarlo a lui per fare un discorso o rispettare come sapete la domanda è questa io sostengo da anni che il modello organizzativo della chiesa l'occhio di Dio, la piramide Papa, Giardinali, Vescovi Cristi, Tedesino è non superato da nessuno anche i partiti i generali, i coronali, i tenenti, i marciali e anche il leninismo il segretario del Comitato Centrale qua ha distritto elettorio a conto indusco ha organizzato così io dico che so che forne qualcosa di diverso ma io dico se non superiamo questo tipo di occhio di Dio è un modello di dominio di potere di oppressori a capire di Sant'Antonio dall'alto verso il basso e di Recca Cuglia al basso verso l'alto noi ci raccontiamo delle balle all'eternità la seconda domanda è questa riusciremo a fare questo qua per dire il tuo discorso orizzontale terzo e chiudo è il discorso delle forze produttive secondo me quello che citavi non ha capito bene il discorso di Marx quanto dice che lo sviluppo delle forze produttive rende in contrasto con i rapporti di produzione grazie